Gira, sì. Buongiorno a tutti, sono arrivate ieri le rose dalla Bulgaria con un trasferimento diretto un giorno solo. Adesso procederemo a tagliare via la parte con le foglie, questa parte qua, puliremo le radici fino a farle diventare come le rose canine e adesso vi vado a far vedere in questa maniera qua. In questo terreno qua è stato arato ad agosto per arieggiare, fresato la scorsa settimana e abbiamo posizionato un telo di pacciamatura che ci consentirà di tagliare meno erba semplicemente. Adesso a misure di 2,80 tra le file e 70 centimetri tra le rose andremo a piantare un pezzo e quindi speriamo che si sviluppino bene in questo territorio. Va bene? Poi vi aggiorno più avanti per le altre cose. Ciao!